Devo cambiarti un microfono Un stabilizzatore ma non sa che non fa un cazzo Oh alla fine te lo sei messo sul computer Eh si? Non è perché non mi ricorda Vabbè va bene Facciamo il solito banner Ok Quelle li, quelle invece le tieni a parte così lui la riesce a ditarle tranquille Ehi Dai non c'è neanche il pennarello che scrive vergogna E' del macchie il pennarello quindi stai attento a cosa insulti Hai insultato il tuo pennarello eh Ok allora vediamo Oh come lo stai facendo grosso sto cerchio Sto cercando di aiutarlo povero Ma guarda va più che bene così Vabbè comunque sia un po' visto che è andato via Ecco questo è il tuo buco del culo Mi raccomando Ok Torniamo a noi va Così si vede Bravo Io alza lei anche Mio grazie mille caro Chebab Ci sta però visto che ho cagato dopo due giorni Non so se sei una mossa onesta Sì minchia ti fa cagare Non cago subito No Chebab Però completo Ma dici di te No io vieni ho scelto la pizza Ma se vuoi il kebab ci sta per me Suona Chebab va bene Come lo vuoi No lo stavo facendo bene Devi imparare a suonare e rispondere domande Dai suona Un altro uguale Ne facciamo un altro uguale Ne facciamo un altro uguale Comunque così una bomba vengono molto meglio Adesso ne fai un altro uguale a questa Così abbiamo tutta la canzone buona E poi dobbiamo solo pensare alla cassa Bomba E forse è arrivato No non dirglielo Perché altrimenti ti va di fretta Ah ecco non correre Non è arrivata la tua pizza La mangio io la tua pizza Se corri la mangio io ... ... calcola che dalla batteria ovviamente ogni colpo che tu prendi nel live ci sono tutti i microfoni, quindi se devi spostare il colpo di rullo, devi andare a interagire su 16 tracce devi andare a spostare quel colpo di rullo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info